E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett, l'altra volta vi ho parlato della lore in generale dell'universo Helldivers Oggi invece parliamo delle due, almeno per ora due, fazioni che attentano alla democrazia, alla libertà della superterra e dell'umanità intera Terminidi e Automaton, ma iniziamo Unisciti agli Helldivers Divento parte di una forza di pace d'elite Scopri nuove forne di vita esotiche E diffondi la democrazia controllata in tutta la galassia Diventa un eroe Diventa una leggenda Diventa un Helldiver I voraci Terminidi sono guidati unicamente dall'impulso istintivo di riprodursi, diffondersi e distruggere la democrazia Sono una piaga in rapida evoluzione, un'infestazione mutaforma che minaccia di divorare e privare dei diritti ogni singolo bambino su ogni singolo pianeta Ce ne sono di diversi tipi, vediamoli tutti Il necrofago Il necrofago senza cervello è il più debole e infimo tra i Terminidi Quando incontra un Helldiver emette un urlo assordante che attira gli insetti vicini nel tentativo di distruggere la libertà E ha un'altra qualità, riuscire a rallentare la sua vittima sputandoli della bile addosso Fortunatamente il necrofago ha pochissimi punti vita ed è semplice da debellare Il guerriero I guerrieri sono il naturale risultato di una specie ottimizzata per espandersi senza scrupoli In ambienti controllati hanno sventrato mucche innocenti in meno di un secondo Per fortuna è facile sbarazzarsene con colpi ben assestati Il cacciatore I fastidiosi cacciatori sono noti per la capacità di schivare il fuoco in arrivo con rapidi balzi Gli scienziati rilevano che, sebbene possa sembrare un comportamento intelligente, non è altro che un istinto basilare Simile a quello di una mosca comune che evita una manata Molto probabilmente è il nemico comune più rompipalle che incontrerete Rapidissimo e letale quando insegue la preda Da fare fuori non appena si avvista, meglio si allunga barra media distanza Non vorrete essere mica sbalzati a metri di distanza a causa della loro lingua che usano come frusta L'inseguitore Nati come effetto collaterale della ricerca sullo splice ingenico dei termini di Gli inseguitori possono mimetizzarsi fino a diventare quasi invisibili Si trovano solo a difficoltà alte e solo vicino alle loro tane Che si possono distruggere come quelle comuni Tanta salute, velocissimi, pericolosissimi Soprattutto per il fatto che, se in pericolo di vita, possono scappare Sfruttando le loro ali per planare lontano, rendersi di nuovo invisibili e cercare di prendere di sorpresa la vittima Il vomitabile I vomitabile sono spuntati a seguito di inevitabili dispersioni di sostanze chimiche tossiche Negli allevamenti di termini di E710 Il loro torace è ricolmo di svariate tonnellate di acido corrosivo che vomitano verso chi vogliono uccidere Se non si vogliono sprecare troppi proiettili ci si può sbarazzare facilmente e velocemente dei vomitabile Con una granata ben piazzata Il titano rabbioso Il più grande esemplare conosciuto di Terminide Un solo titano rabbioso può facilmente distruggere un intero plotone fast Si sconsiglia di combatterli senza il supporto di stratagemmi orbitali o un budget elevato per sostituire il personale Personalmente consiglio gli stratagemmi in sovrimpressione e o il fucile a rotaie Ma aspettatevi di combatterne 5 o 6 contemporaneamente a difficoltà elevate La riete È quasi impossibile fermare una riete in corsa a causa del suo esoscheletro spesso un metro Pertanto il protocollo di reazione consigliato in questa situazione è l'esecuzione tempestiva di un movimento laterale rapido In effetti o si spara la parte vulnerabile che ha sotto la coda o bisogna usare gli stratagemmi in sovrimpressione Oppure bisogna cercare di distruggere una parte di armatura col fucile a rotaia per esempio Per poi finire il lavoro con l'arma primaria Il comandante di covata Dirigendo i suoi ripugnanti compagni con una miscela di spore simili a feromoni e stridi autoritari Il sanguinario comandante di covata è un esemplare raro e letale Capace di caricare come la riete Capace di lacerare la carne come un inseguitore Fortunatamente è facilmente eliminabile mirando la sua grande testa Ma fate attenzione Il suo istinto da grande predatore lo porterà a colpire nonostante la mancanza del cranio Passiamo ai robot O meglio l'Unione Automaton Gli Automaton sono insensibili robot assetati di sangue Programmati per l'omicidio e la violenza socialista La loro origine è un mistero Ma il loro odio sconsiderato per la libertà Li rende una minaccia per tutti i cittadini della superterra Soldati Incursori Predoni I soldati sono poco più di armi con le gambe Caricature basilari della coscienza Fuse a mitragliatrici e lancia razzi A differenza della superterra i robot pensano che equipaggiare degli individui sacrificabili Con dell'artiglieria pesante sia la soluzione a qualunque problema È un nemico basilare Facile da eliminare Il commissario Oltre a essere una rudimentale imitazione di un vertice militare Il commissario è potenziato con un'elaborazione leggermente più veloce E una rozza subroutine di comando Essendo ignobilmente vigliacque e inequivocabilmente non sensiente Se possibile il commissario si tiene lontano dai combattimenti Anch'esso è facile da uccidere Lo Zampelunghe esploratore Lo Zampelunghe è una macchina comandata da una macchina Una torretta ambulante guidata da un'intelligenza limitata di un automaton soldato Un altro tentativo fallito di imitare la vera intelligenza In questo caso esercitando il controllo su una macchina ancora più primitiva degli stessi automaton Per eliminare uno Zampelunghe che si trova di fronte a voi Consiglio una granata ben piazzata In modo che l'esplosione colpisca l'automaton soldato Oppure se volete conservare la granata Vi basta fare il giro e colpirlo alle spalle Con l'arma principale Il Berserker Realizzazione primitiva della barbarie Il Berserker ha una CPU in ogni motosega Programmata per risolvere un unico problema Ridurre lo spazio tra la stessa e l'obiettivo il più velocemente possibile Fateli saltare la testa Vedrete che risolverete sia il vostro che il suo problema Il Distruttore Il corazzato distruttore mira a distruggere chi si oppone Alla visione totalitaria dell'automaton Con una vasta gamma di terribili armi Cannoni a braccio Scudi a braccio Mitragliatrici a braccio E lanciarazzi a braccio Stessa cosa del Berserker Mirate alla testa Il Gigante Come tutte le unità automaton Il lento gigante è progettato con l'unico scopo di fornire una pesante potenza di fuoco In caso di incontro il protocollo raccomandato per gli Eldivers è di richiedere immediatamente Il più grande orbitale disponibile In alternativa mirate alle fessure sulla sua schiena Il Carro Spudoratamente copiato dai progetti della Super Terra Il Carro automaton è inferiore sotto così tanti aspetti Che sarebbe impraticabile elencarli tutti In ogni caso è un nemico temibile, quindi utilizzate gli stratagemmi in sovrimpressione Oppure mirate sempre alle fessure sul retro La nave da trasporto Riempite fino all'orlo di fanteria robotica Le navi da trasporto schierano rapidamente il disputismo meccanizzato e insensato A differenza di ciò che pensano tanti Eldivers Le navi da trasporto possono essere distrutte E sarebbe meglio farlo prima che sbarchino il carico Un lanciarazzi potrebbe fare al caso vostro Ragazzi vi ringrazio per la visione Se vi è piaciuto il video mettete mi piace Commentate, iscrivetevi e abbonatevi Se riuscite potete Noi ci vediamo al prossimo video E alla prossima tazza di Libertè Noi ci vediamo al prossimo video